In provincia di Teramo l'acqua è sempre stata pubblica e tale resterà. È la netta posizione espressa dal presidente dell'amministrazione provinciale teramana, Diego Di Bonaventura, che ha convocato i 47 sindaci del territorio in merito alla gestione del servizio idrico integrato provinciale. Sì, perché l'affidamento in house alla Ruzzoreti scadrà il 25 giugno del 2023 e il percorso dell'individuazione del nuovo gestore deve essere avviato 18 mesi prima, come stabilisce l'Ersi, l'ente regionale per il servizio idrico. Oggi noi dobbiamo riaffermare, e io lo dico con un ordine del giorno che porterò proprio in questa assise, che l'acqua alla scadenza, le concessioni devono rimanere all'unica società pubblica che è la Ruzzoreti. Poi altro è i vari contenziosi che ci sono tra Ersi e Ruzzoreti. Dobbiamo essere bravi a non farci portare nei giochetti che qualcuno sta mettendo in atto per dividere la nostra comunità. Il presidente dell'Ersi, Nunzio Merolli, intervenuto all'Assemblea dei sindaci terramani, ha invitato i presenti a perseguire la via della gestione pubblica dell'acqua, ma non ha risparmiato critiche alla Ruzzoreti per aver applicato tariffe troppo alte. Sull'attuale gestione della Ruzzo si è espresso criticamente anche il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto. Oggi ascolteremo quelli che sono gli aspetti critici, attendiamo anche la risposta che la Ruzzoreti deve dare all'Ersi in merito alla diffida che è stata formulata sulla base di una serie di richieste in relazione alla gestione dei costi che dicevo prima, con serenità, con l'obiettivo di correggere la gestione, l'ultima soprattutto della Ruzzoreti, e riportarla in un alveo che ci consentirà di procedere poi all'affidamento in house. Ma non bastano dichiarazioni di principio, anche perché il DDL concorrenza, che attualmente è in fase di discussione, va ad incrementare l'obbligo di motivazione per poter procedere all'affidamento in house. Ecco perché è significativo che si dimostri che la gestione della partecipata, in questo caso che riguarda la nostra acqua, l'acqua pubblica, sia svolta, effettuata nel modo più oculato ed efficiente possibile. Quindi stiamo discutendo della gestione del Ruzzo e oggi i nodi vengono al pettine e verranno affrontati per poterli sciogliere. E sul futuro affidamento del servizio idrico del territorio terramano interviene anche la Casa del Popolo, che ribadisce che l'acqua è di tutti e non può essere trattata come merce sulla quale fare profitti.